Per tanti anni lo abbiamo chiamato Corpo dei Vigili Urbani. Oggi è il corpo della Polizia Locale, ma per questa puntata noi useremo il termine Polizia Municipale. Ci piace così, Polizia Municipale, perché è un concetto legato alla Polizia di prossimità, cioè il poliziotto amico del cittadino, legato al concetto di municipio, l'ente più vicino al cittadino. L'accesso al corpo della Polizia Municipale segue le stesse norme dell'ingresso alla pubblica amministrazione. Un concorso pubblico nel caso specifico indetto dal sindaco. Gli esami sono i soliti, l'esame di orale e scritto di cultura, la prova dell'attitudine fisica, a sforzi e a circostanze particolari che il lavoro poi presenterà. I requisiti sono quelli della maturità, classica, professionale, tecnica. In più la conoscenza di almeno una lingua straniera e sarà specifica a secondo del territorio. E poi, per fortuna, non ci sarà più il limite minimo dell'altezza. La Polizia Municipale non è soltanto multa così come molti intendono e credono. La Polizia Municipale è anche vicinanza alle problematiche del cittadino e guarda a 360 gradi tutti i problemi legati anche alla microcriminalità. Allora, per quanto riguarda le pattuglie invalidi, mi raccomando, la cittadinanza è contenta che stiamo facendo un ottimo lavoro. Controllate tutti gli spazi invalidi che tutti quanti abbiano i permessi invalidi. Per quanto riguarda invece la pattuglia Mazzini, non voglio vedere nessuno che chiede l'emosina. Non ci sono più perché ci siamo noi, naturalmente. Però ci sono delle lamentele ancora che continuano a chiedere l'emosina. Non vogliamo vedere nessuno che chiede l'emosina. Agente di Meo. Buongiorno, commissario. Non le hanno insegnato a fare saluto quando indossa il copricapo? Mi scusi, certo. Vedo che porta i capelli lunghi. Ne hanno detto che quando porta i capelli lunghi deve fare la treccia del servizio. Mi scusi, li avevo appena lavati e non pensavo io. Sarà fatto. Poi vedo che indosso delle scarpe con un tacco alto. Vada a cambiarle. Perché? Non sono intonate? No, no, vanno benissimo. E con i sanpietrini rischia di cadere. No, ma si figuri, commissario. Non sa, cammino sempre con i tacchi. Guardi, non cado mai, assolutamente mai. Scusi, non capiterà più. Sarà fatto. Di meo. Commissario. Comandante, com'è il giorno in divisa di un vigile? È un giorno in cui ci si occupa di sicurezza stradale e di sicurezza urbana grazie ai nuovi poteri del sindaco. Ecco appunto, il sindaco Tosi ci ha detto che un vigile sa come esce ma non sa come rientra. Questo che cosa significa? Significa che ci si occupa anche di microcriminalità, dal furto della bicicletta al microspaccio. Questo perché i cittadini ci segnalano sul territorio piccoli eventi nei quali poi noi interveniamo. Quindi è un lavoro di grande professionalità ma anche di equilibrio. Certamente, sono due componenti essenziali nel lavoro di ogni operatore di polizia locale. Quindi viene anche smontata l'immagine che vi descrive, molto severi, sempre pronti a fare multe. Quella è importante, l'azione di severità, ma è anche importante un'azione di prossimità vicino al cittadino. Com'è essere il comandante dei vigili? Molto impegnativo. Ci sono tante richieste, è un'attività frenetica che prosegue tutto il giorno attraverso un briefing continuo con i miei collaboratori e con il ricevimento anche del pubblico. E cosa pensano di questo i cittadini e gli agenti? I cittadini sono soddisfatti della nostra attività. Gli agenti spesso sono oberati di compiti, ma questo fa parte proprio dell'attività istituzionale della Polizia Municipale. Si accomodi? Grazie. Allora, com'è migliorabile il rapporto tra i cittadini e la Polizia Locale? Attraverso una maggiore collaborazione con i cittadini e attraverso una maggiore collaborazione da parte nostra nei confronti dei cittadini stessi sui loro piccoli e grandi problemi. E quali sono gli aspetti che la rendono orgoglioso di fare questo lavoro nella Polizia Municipale? Il rapporto diretto con i cittadini anche attraverso l'utilizzo di tecnologie in funzione proprio di miglioramento del benessere sociale e di risoluzione anche dei loro problemi. La Befana del Vigile è una manifestazione che è stata ripristinata da alcuni anni. È una manifestazione che andava di moda nel dopoguerra, quando i cittadini veronesi portavano dei doni ai vigili urbani in Piazza Bra. Portavano dei doni al vigile sulla pedana bianconera che gestiva il traffico tra Piazza Bra e Via Roma. Questa tradizione è stata ripristinata proprio perché la vicinanza della Polizia Municipale ai cittadini è un motivo di orgoglio per il corpo della Polizia Municipale, ma soprattutto è un motivo anche di riavvicinare i cittadini a coloro che gestiscono la viabilità, che sono presenti sul territorio, anche ad esempio nelle scuole con i bambini per l'educazione stradale. I doni che sono stati consegnati oggi verranno portati alla mensa dei poveri dei frati di San Bernardino, ancora una volta per ricordare la Polizia Municipale vicino ai cittadini, anche in un contesto di festa come quella di oggi dell'Epifania. Grazie a tutti. Scusa, è qui che c'è la Befana del Vigile? Ma è il 7 gennaio. Eh beh, allora... Scusami, ma questa è un'auto d'epoca e ci vuole il suo bel tempo per arrivare. Franco. Sono arrivato adesso. Oh Franco, meno male che tu l'hai vista tante volte la Befana del Vigile. È certo che l'ho vista tante volte. Da ragazzino venivo a vedere i vigili che erano così pieni di regali, gli portavano il pandoro tipico veronese, una buona bottiglia di reciotto, così si scaldavano di vino rosso dolce, amarone e così si faceva festa, facevano festa, si scaldavano un po' perché 6 gennaio c'è freddo. Come non potevano piacerti i vigili da bambino? Eh, ci mi piacevano soprattutto perché non mi facevano la multa. Adesso qua... No, adesso no. Sono buoni e sono importantissimi per una città e anche quando ti fanno le multe. Tanto ti stanno simpatici che hai indossato i panni del Vigile e io lo so, lo so per certo. Come fai a sapere? Eh, conosco tutto. Sei una sapona, lo so io. Io e Nini Salerno, mio ex collega dei Gatti di Vicolo Miracoli, siamo vestiti per una candid camera da vigili e abbiamo fatto una multa ad uno che passava. Sai che multa era? No. Una multa per eccesso di mozzarella. Di mozzarella? Eccesso di mozzarella. Abbiamo una focaccina, abbiamo detto, facciamo una multa per eccesso di mozzarella. E lui come ha reagito? Sì, è rimasto con la bocca aperta e ha l'eccesso di mozzarella. Poi alla fine, insomma, abbiamo conciliato. E ve l'ha pagata? No, ci ha pagato un caffè alla fine dello scherzo. Sempre meglio di niente. Eccesso di mozzarella. Senti, io ho un'idea. Qui abbiamo la vetturetta, che è il mezzo di trasporto, perché è mezzo, perché è piccola. Tu sali e io ti porto in giro per Verona a vedere i punti più belli, più panoramici e più romantici della città. Molto volentieri, a fare fatto. Venga, venga che la faccio salire, prego. Venga. La coppa. Venga. 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 Venga.